Io ho sempre il rispetto di quello che gli italiani decidono. Alex, chiudiamo. Ci vuole una di quelle domande? No, una cosa un po' personale le volevo chiedere. Lei è... Eccoci, me la sono cercata. Presidente, lei ieri allo speech dell'Atlantic Council ci ha svelato la sua passione per Michael Jackson. Io le vorrei chiedere qualcosa in più su quello. Io penso a Black & White, a Thriller. Guardi, potrei parlarle per ore di Michael Jackson, perché io sono stata una grandissima fan di Michael Jackson, immagino che a cui sono interessi tantissimo la gente che ci ascolta, ma... E non scherzavo quando ieri ho detto My English Teacher, perché io ho cominciato a cimentarmi con l'inglese per tentare di capire cosa dicessero i testi di queste canzoni, quindi lo ringrazierò a lungo per avermi aiutato a parlare dignitosamente l'inglese. La mia preferita è Man in the Mirror, quello che ho citato ieri. Sì, va bene. Adesso vado, non sono capace. Arrivederci.